Sistemiamo la mia stanza Sono passati solo due giorni da quando l'ho messa in ordine Ma è di nuovo così E tra l'altro ieri non ho neanche dormito qui Ma ho dormito a casa delle mie migliore amiche Però vabbè ho fatto un po' le corse Ho aperto dei pacchi Quindi vabbè ci sta Tra l'altro adesso la metto in ordine Ma tra pochissimo devo fare la valigia Quindi devo rimettere tutto in disordine Lì e qui ci sono le cose da mettere in valigia Quindi non le toccherò Anche in questa busta Quindi metto qui Inizio dividendo carta e plastica Usiamo tutte queste cose Ho comprato queste nuove cose Infatti dopo adobbiamo un attimo Tutta questa parte Senza che metto in ordine i trucchi Anche queste altre cose qui Infatti purtroppo questa zona la lascerò così Rifaccio il letto Prima però poso le pellicce Tra l'altro è pesantissimo questo Qui ho la mia cappatoio Questo si posa Letto fatto Qui sto soffrendo perché vorrei mettere a posto Però appunto come vi dicevo Stare a uno cristiano che mi deve portare lo specchio Qui E io devo sistemare tutti i trucchi qui Organizziamo la mia parete trucco In questo scatolo enorme c'è lo specchio E qui come vi ho fatto vedere ci sono tutti gli organizer nuovi Sia qui che qui Ho messo una sciocamana sul letto così possa appoggiare tutti i trucchi senza sporcare nulla Iniziamo da questo qui dove ho primer, fondotinta, alcuni correttori, beauty blender e cose per la skin care E continuiamo con i cassetti che devo sia pulire che spostare Tutti i rossetti Ancora rossetti E altri rossetti ancora Qui ho mini size, matite, eyeliner E qui altre varie cose tra mascara e gel sopra a ciglia Tutti i pennelli Qui ci sono tutte le tinte di Kylie E altre tinte che non uso Infatti mi sa che le declattererò tutte E qua tanti gioielli che non utilizzo I profumi li lascio qui Però le cose per i capelli vorrei spostarle Tutte queste altre cose devo metterle sempre da parte Scrivania libera, adesso puliamo Una volta pulito tutto mettiamo lo specchio È tutto imballato quindi devo dire anche tutta questa plastica C'è ancora un altro scatolo E adesso vediamo com'è lo specchio Qui ci sono delle cose Qui il cavo E qui c'è lo specchio Eccolo qui Devo montarci i piedini sotto Ora posso uscire se metterlo sul tavolo o al muro Io lo metto ovviamente sul tavolo Quindi devo montarci questi piedini qui Montati i piedini Adesso prendo questo FMR Raga è bellissimo Qui va il cavo Facciamo una prova Raga prova luci Eccole Poi qui si può sia ridurre che alzare E qui invece si cambia modo di luci È bellissimo Faccio anche quest'altro specchio Che ha le ventose dietro e vanno tipo dove vuoi Ok l'ho messo lì Dallo specchio adesso si nota tutto il casino che c'è qui Adesso butto un po' tutto e poi ordiniamo Fatemi sapere se volete la parte 2 Lo specchio l'ho montato ma adesso devo ordinare tutte quelle cose Giuro che questo specchio è bellissimo E niente Iniziamo L'interno dovrebbe stare così lontano Però io lo vorrei un po' più vicino Perché è più comodo se mi trucco Lo specchio è diciamo un po' più vicino Perché la scavone è molto molto grande Però so che facendo così occupo più spazio La parte dietro quindi anche un bel po' Perché c'è un bel po' di spazio Verrà Non verrà più usata Inoltre io qui avanti non voglio metterci nulla Perché deve essere bello tutto pulito Quindi le cose che posso metterle sono sia qui Che qui E qui e qui Ma è poco lo spazio Potrei mettere anche così angolato Però comunque starei lontana So per giù Mangia anche gran parte della scavania Perché io qui dietro Prima avevo tutto l'organizer Con fondotinta e skin care Non lo so raga Ci sto un attimo pensando Anche perché da oggi in poi Poi la postazione sarà questa E questo qui sarà lo sfondo Devo un attimo decidere E questa qui peggio mi sento Anche perché è bello Stato che qui non lo posso mai mettere Perché dietro ho un cubo Per metterci le cose Penso la scelta migliore Sia quella di metterla al centro Ma consapevole del fatto Che dietro non userò Tutto lo spazio Cioè secondo voi dove devo metterlo? Ho detto qui no Nel centro sì ma è troppo lontano Quindi dovrei averlo un po' più vicino E nell'angolo qui no Perché poi mi si mangia tutta questa parte Comunque dove lo metto Lo metto qualche spazio Me lo leva Quindi devo vedere bene Voi dove lo mettereste? Ho deciso di metterlo qui nell'angolo Perché sono più vicina Quando mi trucco E in più lo sfondo È un po' più limpido E quindi forse è meglio Per fare i video Adesso però organizziamo tutto Partiamo dall'organizer nuovo E questo lo voglio assolutamente qui Perché è bellissimo E credo di mettere due cassetti sotto Che tra l'altro adesso che guardo Non so se è perché sporco Proprio un altro colore Ma talmente differente Per fare anche spazio Per tutti questi altri organizer Ragazzi secondo me Ho fatto un po' troppo shopping Questo vorrei sarlo per la skin care Però poi non so l'altro Dove faccio skin care Dove lo metto E cosa ci metto Cosa è base di acqua Le metto qui Mentre qui metto le mousse Quindi questa qui E anche questa è una sorta di mousse È un foam cleanser Quindi lo metto qui Mentre Così è meglio Per il momento è così Continuiamo qui con creme e cremine Ok qui ho tutto Prima però Questo però vorrei metterci Sia i cotton fioc Che i dischetti struccanti Quindi così Così Qui ci metto Burro struccante Qui una maschera Un'altra maschera La metto sopra Questo qui non c'entra Quindi lo metto qui Perché volevo metterlo Insieme a questi altri qui Non so ancora come riempire il resto Quindi passo avanti Metto gli oli qui E anche questo qui E anche questo qui Contorno occhi Anche questa qui No mi sa che devo spostare ancora Perché mi serve questo spazio E devo metterci questi qui Deve ordinari A pensare che io volevo metterci anche i primer qui Queste sono altre creme Questo qui per i brufoli Lo metto qui Anzi no Questo lo metto insieme a questi altri E questo è il quale sposto Adesso è diventato complicatissimo Non pensavo fosse così tanto complicato Perché non c'ho spazio Forse ci siamo Ho un po' incastrato tutto ovunque Vediamo invece qui sopra Cosa metterci Ho messo i setting spray Non so se li toglierò O li lascerò qui Mi sa che ci metterò i primer Questi qui sono tutti i primer che ho Provo a metterli lì Ho preso una busta Per buttare un po' le cose che non uso Tipo questa qui Che ormai è scaduta E questo qui Che non ho mai usato Poi ho il doppione di questo Che lo metto qui E la cremina Che la metto qui Vediamo se ci entrano anche i fondotinta qui Anche se forse non mi fanno impazzire Perché vorrei proprio suddividere le cose Quando sarà poi vedrò come metterci Comunque Questo qui è il tutto Fanno un po' fatica a girare Perché fanno un po' di rumore E questo qui esce sempre fuori Allora questo qui Voglio metterlo qui Perché ci sta bene Però non con queste cose Quindi adesso li sposterò E metterò i pennelli Oddio Non mi ricordavo di avere tutte queste cose Comunque organizzare questa parete trucco Sta diventando molto complicato Molto più del previsto Perché non pensavo fosse così difficile Li prendo da qui E li metto qui Adesso le pellicole le tolgo Perché mi danno fastidio Qui voglio metterci le cose per gli occhi Quindi mascara, matite Queste sono matite Anche queste qui Mascara che uso di più Mascara che uso di meno Qui ho altre cose E qua ci sono anche le cose per le sopracciglia Ragazzi non so come mi sarebbe venuta in mente Di fare questo cambio Di postazione trucco Di trucchi eccetera eccetera Sto decluttering Perché mi sto nervosendo Perché non ho posto Non ho spazio Non so dove mettere le cose Ho pensato di mettere le cose per gli occhi Qui E qui magari le palette Che sono sempre per gli occhi Forse metterlo così E le palette sia a destra che a sinistra E magari anche dietro Devo pensare anche dove mettere i fondotinta Perché voglio metterli in verticale Non in orizzontale Perché va a finire che magari escono Ci dimentichiamo che ho ancora Tutte queste cose da posare Lì c'è anche il beauty Che devo svuotare Potrei mettere qui dentro i fondotinta Però non so se metterli Tipo qui Oppure metterli da qualche altra parte Però qui sopra forse no Ho anche quest'altro organizer Inizio a metterli qui Poi vedo dove mettere questo coso qui Questo è tutto sporco Potrei metterli qui E i correttori posso metterli Tipo nel cassetto di giù Così posso continuare sotto con la cipria Non so proviamo Qui non ci posso mettere quasi nulla Perché c'è questo chiodo qui Diciamo Che mantiene tutta questa parete E tra l'altro è attaccato anche al muro Vedete lì Però forse in uno piccolino così Ci potrei mettere tutti i bronzer Anche questo qui Questo qui Perché è tipo in crema E anche questo è in crema Mettiamo qui i correttori Metto anche questi due nuovi Qui la cipria Questa qui la butto perché L'ho usata pochissimo Ma non mi piace E anche questa di Wagon Che non utilizzo praticamente mai Chissà da quanto tempo Che ce l'ho Metto questa di Nabla MAC Uda Un'altra di Uda Che è compatta Charlotte compatta Mini Charlotte Sempre compatta Adesso la terra Allora Allora queste tre Le butto Perché non le metto E non mi piacciono più Qualcuno sarà pure scaluta Quindi niente Solamente queste tre Che ce le ho in polvere Perché il resto Appunto l'ho messo Nei bronzer Devevo ricontinuare Sare diversi Ma penso proprio che Sia il modello Non penso che Era così prima Penso sia proprio Il colore che Era diverso Anche perché questi qui Li ho da sbagliati anni Comunque è ancora bagnato Ma iniziamo a metterci I blush Allora Questi altri qui Li butto Anzi forse questo no Però il resto si Casa tra degli illuminanti Devo un attimo vedere Quale lasciare E quale meno Questo lo tolgo E anche questo qui Aggiungo questo Che era nel beauty E lo metto qui Potrei metterci Tutte le matite labbra Così forse è anche Più facile Cercare il numero E la tonalità Tutti questi Li butterò Perché ormai Sono tutti brutti E saranno anche Secchi e scaduti In questo Adesso Metto tutte le cose Che non mi servono Adesso Molto più spazio Tra l'altro Ne ho un altro Anche questo Lo metto qui Questi qui Sono gloss Colorati Però li metto Sempre qui dietro Questi tre Sono più o meno Per preparare le labbra Quindi li metterò Lì Questi difenti Non entrano qui Questo qui E quest'altro Qui Raga mi sa che Non c'entrano Quindi metterò Solamente gloss I rossetti Devo toglierli Ok ci sono riuscita Con i gloss Adesso dobbiamo Passare ai rossetti Anche se non so Dove metterli Adesso questi Spostato un po' Tutto verso sinistra Quindi adesso È così E adesso Però i rossetti Sono un altro Bel problema Anche perché Qui ne ho una cifra Ma mi sa che Li butterò tutti Qui ci sono anche Dei gloss Mi serve per forza Un'altra parte Perché non riuscirò Mai a continuare Questo video qui Spero che questa Sia l'ultima parte Penso di essere A buon punto Non lo so Questo è Tutta una panoramica Generale Lì sopra Ci ho messo Le tinte La mia idea però Era di mettere Anche le palette Qui esposte Probabilmente Non ci riuscirò E mi sa che poi È troppo troppo Incasinata Inizio a buttare Tutte le scatoline Che ho aperto In questo beauty Ho ancora Qualche altra cosina E sono tutti pennelli Se non mi sbaglio Qualche cosa Un fioc Allora questi piccolini Vanno qui Questi più grandi Dietro Una matita labbra Va qui Rossettino Lo metto Qui Tocca Usare questo Cassetto Qui Perché per il resto È tutto in ordine Non ci credo Ovviamente Queste cose Non le userò Insieme a tutto il resto Ora facciamo anche Un decluttering Delle palette Perché alla fine Ne utilizzo sempre Una Massimo due Qua ci sono Degli shimmer Qui dietro Ne ho parecchie Iniziamo da questa qui Che l'ho utilizzata Parecchio Anche se non sembra Ma non la utilizzo più E penso anche Che sia scaduta Quindi La tolgo Stessa cosa vale Per questa qui Anche se Sono molto molto belli Stessa cosa vale Anche per questa qui Alla fine Non le utilizzo Quindi mi sembra inutile Queste qui sono nuove Le darò a mia mamma Perché mia mamma Comunque utilizza Quelle lì Un po' più piccoline Perché il suo beauty È più piccolo Questa qui È degli illuminanti E neanche questa Utilizzo Questa qui Dei nude Questa sia scaduta Grandissima E mi dispiace Mi sa che L'ho usata Veramente pochissimo Credo che sia scaduta Però Non lo so La lascio Per il momento Poi ho questa di Anastasia Che mi ha regalato Christian Praticamente È mai usata Quindi devo usarla Un po' di più Anche perché È nuova Questa qui Mai usata Penso Mai la userò Quindi Purtroppo Andrà Via Questa qui Di Nabla La utilizzo poco Però la utilizzo Quindi La lascio Poi Questa qui Se mi conoscete Siete dei miei Tra i miei Quindi è quella Che utilizzo maggiormente Poi ho Quest'altra qui Di Nabla Con i glitterini Questa non la posso Mai buttare Questa qui È di Anastasia Ma non mi ricordavo Qui abbiamo Una di MAC Che è fatta In questo modo Ci sta Questa qui Non la utilizzo La metterò qui Questa qui Ne anche utilizzo Anche se ha colori Anche se ha colori Molto molto belli Non so Questa la mantengo Un attimo In stand by Perché Non lo so Ah poi Un'altra piccolina Di Natasha De Nona Questa la tengo Anche perché Ero stata Veramente poco E niente Quindi magari Devo utilizzarla Un po' Abbiamo gli ombretti Quelli lì Singoli Che non utilizzo Vi giuro Quindi toglierlo Tutti i guanti Proprio perché Non mi servono Poi ho altre Palettine che adesso Stanno spuntando Questa qui di Dior Che la utilizzo E mi piace Quindi la metto qui E poi la nuova Di Charlotte Tilbury Che non posso buttare Anche perché L'ho appena Acquistata Ma parliamo La mia preferita Ragazzi Io Non ci credo ancora Ma Penso di aver finito L'unico problema È che sul letto Adesso Tutte le cose E devo toglierle Benvenute Nella mia postazione Trucco nuova Accendiamo lo specchio Ed eccola Qui Faccio prima Una panoramica E poi entriamo Nel dettaglio Alla sinistra Abbiamo pennelli E beauty blender E sulla destra Abbiamo tutti i prodotti Di skin care E alcuni per preparare La pelle al make up Tipo il primer Poi ci ho messo Anche qualche Spugnettina Mollettine Dedorante Continuando Salvettine imbevute Che mi servono Per pulire le mani Dopo il trucco E anche per pulire La scrivania E quello lì È per appoggiare il telefono Poi continuando Saliamo però Un po' più su Tutti i fondotinta Bronzer E qui Gel sopracciglia Eyeliner Alcune mascara Alcune matete per gli occhi Scendendo giù Abbiamo i correttori Le cipre Le terre I blush Gli illuminanti E qui tutte le matete I rossetti invece Sono più su Qui abbiamo i rossetti Oppure le combo Mentre qui tutti i gloss Dietro invece Ho alcune cose per i capelli E qui sopra Tutti i profumi E questa qui È tutta nel complesso Io la amo Mi piace tantissimo E spero di Lasciarla sempre in ordine Grazie a tutti Grazie a tutti